Il colore è un mezzo per influenzare direttamente l'anima. Il colore è il tasto, l'occhio è il martelletto, l'anima è un pianoforte con molte corde, l'artista è la mano che toccando questo o quel tasto fa vibrare l'anima. È chiaro che l'armonia dei colori è fondata solo su un principio, l'efficace contatto con l'anima. Questo fondamento si può definire principio della necessità interiore. Da Lo spirituale nell'arte di Vasily Kandinsky di Vasily Kandinsky. Grazie. Grazie.